Il conto alla rovescia per la chiusura del calciomercato scorre veloce. Alle 23 di domani sera il gong suonerà in maniera inesorabile per tutti. Per l'Avellino ci sono da fare più movimenti in uscita che in entrata. Nella giornata di ieri, infatti, con l'Atalanta è stata perfezionata la doppia operazione che porterà in maglia bianco-verde il difensore centrale Jim City e l'esterno destro Molina. Il primo è destinato a prendere il posto di Davide Bilaschi, passato al Genova per 1.800.000 euro. Il secondo agirà sulla corsia di destra, dove in questo momento si sta adattando Belloni. Si tratta di due buoni elementi destinati a rinforzare l'organico messo a disposizione di Mimmo Toscano, al quale la dirigenza potrebbe comunque regalare ancora un altro esterno e un attaccante centrale. Le trattative con Zampano e Dickmann, malgrado l'arrivo di Molina, che per un problema al tendine sarà pronto soltanto tra un mese, non sono affatto archiviate, ma non è da escludere che possa arrivare anche un giovane dalle belle speranze. Difficile, invece, azzardare il nome della punta centrale, anche perché Mimmo Toscano ha chiesto ai suoi direttori di non fare scommesse su altri giovani. L'impressione è quella che si punterà su un colpo last minutes, quando al mercato dei saldi saranno le società di appartenenza a cercare acquirenti. Un po' come sta accadendo adesso all'Avellino, che sta facendo di tutto per liberarsi di alcuni elementi. Su tutti c'è da sistemare Rea, richiesto dal Messina di Marra, e Sbaffo, che sta dialogando intensamente ormai da un mese con il Parma. Cosenza e Taranto, infine, sono su Sumare, mentre per Dattilio è rimasto soltanto il Murphy.